Principi costituzionali, democrazia rappresentativa, europeismo sono alcuni dei capisaldi della nuova alleanza per l'Abruzzo che Giovanni Legnini, candidato presidente per il centro-sinistra, pone alla base del progetto con cui intende riportare al governo della regione la coalizione. Un progetto aperto al civismo a tutti coloro che ne condividono i principi, a partire dalle tre liste che oggi hanno ufficializzato il loro appoggio all'ex vicepresidente del CSM. La lista che porta il suo nome è Abruzzo in Comune, Democratici e Popolari per l'Abruzzo. Stiamo promuovendo un progetto politico nuovo, fatto di liste civiche rappresentative di aree, indirizzi culturali e programmatici capaci di dar voce a mondi diversi, alla società civile abruzzese. E chiediamo, abbiamo chiesto ai partiti, al PD, agli altri partiti di centro-sinistra, di partecipare e di sostenere questo progetto. È una novità di non poco conto. Tra i temi affrontati da Legnini c'è quello di stretta attualità del rincaro dei pedaggi autostradali su A24 e A25. Legnini si dice pronto a condividere delle soluzioni con gli altri candidati alla presidenza. Vi è una norma di legge del 2012 che lo impone, che impone anche di limitare gli aumenti tariffari, di renderli sostenibili. Fu una norma proposta da me e da Paolo Tancredi, i quali relatori della legge finanziaria. Il mio appello è al governo perché definisca presto questa vicenda, alla società concessionaria perché nell'emore della definizione, in attesa della definizione, sospenda l'aumento delle tariffe autostradali insopportabili, quasi il 20%. E' un appello ai miei colleghi candidati presidenti della regione a promuovere insieme, io sono disponibile, pronto, insieme, un appello, un invito al governo nazionale perché risolva definitivamente questa questione.